videotest a 1080 50 frame con la panasonic lumix tz 30 stabilizzatore attivo oggi è una giornata nuvolosa proviamo a vedere l'effetto dello stabilizzatore mentre si cammina intanto zoom almeno dal display sembrerebbe funzionare bene contro luce proviamo il macro ok con questo è tutto ciao da ivan grazie a tutti